del resto io affermo questo affermo che gli uomini di allora vi giuro che questo fatto mi ha sempre colpito mi sono sempre parsi diversi dagli uomini che siamo noi oggi di una stirpe diversa da quella del nostro secolo insomma quasi di una diversa razza gli uomini avevano si può dire una sola idea mentre ora sono più nervosi più evoluti più sensibili come se avessero più idee in una volta l'uomo di adesso ha la mente più aperta e vi giuro questo non gli impedisce di essere della stessa componente degli uomini dell'altro secolo ecco io volevo dire questo che fede è dunque il cattolicesimo innanzitutto non è una fede cristiana questo in primo luogo secondariamente il cattolicesimo romano è anche peggiore dell'ateismo questa è la mia opinione sì questa è la mia opinione l'ateismo si limita a predicare il nulla mentre il cattolicesimo va oltre esso predica un cristo travisato che esso stesso ha diffamato e calunniato un cristo in contrasto con la verità predica l'antichristo ve lo giuro ve lo assicuro questa è la mia personale opinione è ormai di lunga data e mi ha fatto molto soffrire il cattolicesimo romano crede che la chiesa non possa esistere sulla terra senza un potere universale e grida non possumus a mio parere il cristianesimo romano non è neppure una fede ma è decisamente il proseguimento dell'impero romano d'occidente nel quale tutto a cominciare dalla fede dipende da questo concetto il papa ha preso possesso di un territorio di un trono temporale e ha impugnato la spada da allora tutto va avanti così salvo che alla spada sono state aggiunte la menzogna la finzione l'inganno il fanatismo la superstizione la malvagità si è giocato con i sentimenti più sacri più giusti più ingenui più ardenti del popolo si è barattato tutto tutto con il denaro e con un meschino potere temporale e non è forse questa la dottrina dell'anticristo come era possibile che da uomini di tal fede non uscisse fuori l'ateismo si proprio da essi è nato l'ateismo proprio dal cattolicesimo romano l'ateismo prima di tutto ha avuto inizio da loro stessi potevano forse credere a se stessi ha acquistato forza dall'avversione verso di loro è un prodotto della loro menzogna e della loro debolezza spirituale l'ateismo da noi le uniche a non credere sono soltanto alcune caste particolari che come si è espresso giorni fa in modo eccellente eugenico lovich hanno perduto le radici ma l'ha in europa un'enorme massa di uomini già incominciano un credere prima a causa dell'ignoranza e della menzogna e ora anche a causa del fanatismo dell'avversione verso la chiesa e verso il cristianesimo si proprio a causa della noia della nostra noia e non della sazietà in questo siete in errore non solo della sete ma di un'arsura di un ardore febbrile e non crediate che la cosa sia così poco importante da potersi ridere su scusatemi ma bisogna saper presentire la nostra gente non appena raggiunta la riva o crede che sia la riva se ne rallegra subito al punto di attrarre immediatamente gli estremi risultati perché questo? voi ecco voi vi meravigliate di Polisevic e attribuite tutto alla sua pazzia o alla sua bontà ma non è così non soltanto noi ma tutta l'Europa si meraviglia in simili casi del nostro passionale temperamento russo se uno di noi passa al cattolicesimo immediabilmente diventa gesuita e tra i più subdoli se diventa ateo comincerà allora a esigere immediatamente lo sradicamento della fede in Dio con la forza ossia anche con la spada perché? perché di colpo una simile frenesia? possibile che non lo sappiate perché ha trovato la sua patria che qui non era stato capace di vedere e se ne rallegra ha trovato una sponda una terra e si prostra a baciarla e non soltanto dalla vanità non sempre soltanto dalle cattive vanità dei sentimenti nascono viate i russi e i gesuiti russi ma anche da un'inguetudine spirituale da una insaziabile sete dell'anima dalla brama di un processo superiore di una solida sponda di una patria nella quale hanno cessato di credere perché non l'hanno mai conosciuta è così facile per il russo diventare ateo più facile che per un qualunque altro al mondo e i nostri compatrioti non soltanto diventano atei ma immancabilmente credono nell'ateismo come in una nuova fede senza neppure rendersi conto di credere nel nulla così grande è la nostra attività di fede che non ha un solido terreno su cui poggiare non è nemmeno un dio questo non l'ho detto io è detto un vecchio mercante che ha incontrato durante i miei viaggi in verità egli non si è espresso proprio così ha detto chi rinnega la propria terra rinnega anche il proprio dio basta soltanto pensare che da noi uomini di mente elevatissima sono entrati persino a far parte dei flagellanti e in che cosa in tal caso la setta dei flagellanti è peggiore del nichilismo del gesuitismo dell'ateismo io dirai anzi che sia un qualcosa di più profondo ma ecco a che punto da noi ha potuto portare l'angoscia mostrate a questi assetati ardenti compagni di viaggio di Colombo le rive del nuovo mondo mostrate all'uomo russo il mondo russo lasciategli trovare quest'oro questo tesoro che la terra gli nasconde indicategli nel futuro il rinnovamento e la risurrezione di tutta l'umanità forse soltanto per opera del pensiero russo del Dio russo e di Cristo e vedrete quale titano possente veritiero saggio e dolce sorgerà davanti al mondo sbalordito e spaventato perché il mondo non aspetta da noi altro che la spada e la violenza da che non può immaginarci giudicando da se stesso altro che come barbari e se non ad oggi è così ma quanto più si andrà avanti tanto peggio sarà io sono entrato qui con il cuore angosciato io io avevo timore di voi avevo timore anche di me soprattutto di me tornando qui a Pietroburgo mi ero ripromesso di conoscere i nostri uomini più importanti quelli della classe elevata alla quale anch'io appartengo per nascita ebbene ora mi trovo in compagnia di principi come me non è vero volevo conoscervi questo era necessario molto necessario avevo avevo sempre sentito parlare di voi molto più male che bene della fatuità dell'esclusivismo dei vostri interessi della vostra arretratezza della vostra scarsa istruzione e delle vostre ridicole abitudini quante cose si dicono e si scrivono sul vostro conto sono venuto qui oggi pieno di curiosità e di eccitazione dovevo vedere e convincermi di persona e realmente è vero che questa classe più elevata della società russa non può più servire che ha fatto ormai il suo tempo e che la linfa vitale si è inaridita e che ormai è soltanto più capace di morire ma tuttavia ancora in lotta invidiosa con gli uomini dell'avvenire ostacolando loro il cammino senza accorgersi che sta morendo anche prima non ammettevo totalmente questo modo di vedere da che da noi non è mai esistita una casta superiore all'infuori di quella della nobiltà di corte per via delle uniformi o nel caso che ora però è scomparsa del tutto ebbene ho veduto qui persone eccellenti semplici intelligentissime ho veduto un vecchio che trattava e ascoltava fabilmente un ragazzo come me ho veduto gente capace di comprendere di perdonare gente russa buona quasi buona e di cuore come quella straniera che ha incontrato laggiù quasi non peggiore di quella giudicate dunque quanto le sia stato piacevolmente sorpreso permettetemi di dirlo ho spesso sentito dire e io stesso l'ho creduto che in società tutto fosse artificioso tutto fosse formalismo decrepito e che la linfa si fosse inaridita ora però constato con i miei occhi che da noi non può essere così in qualunque altro luogo sì ma non da noi è possibile che voi tutti siate gesuiti e imbroglioni ho sentito poco fa quello che raccontava il principe n non era quello uno spirito semplice e bonario non era forse sincera schiettezza d'animo vi pare possibile che tali parole possano uscire dalla bocca di un uomo morto dal cuore dell'intelletto inariditi forse che i morti avrebbero potuto trattarmi come mi avete trattato voi non c'è forse del materiale per sperare bene nell'avvenire come si può pensare che gente come voi possa non capire e lasciarsi distanziare ieri Aglaia Ivanovna mi aveva proibito di parlare e mi aveva persino indicato gli argomenti che non dovevo trattare essa sa che parlandone sono ridicolo ho più di 26 anni ma so di essere come un bambino non ho diritto di esprimere il mio pensiero e questo l'ho detto da un pezzo soltanto a Mosca con Ragojin parlavo a cuore aperto leggevamo insieme Puskin e lo leggemmo tutto di Puskin egli non conosceva neppure il nome ho sempre timore che mi aspetto ridicolo non c'è il pensiero è l'idea principale non so fare gesti questi sono sempre stonati e ciò suscita il riso e affilisce il pensiero mi manca anche il senso della misura cosa importante anche questa anzi direi la più importante so che sarebbe meglio che io mi sedessi e me ne stessi zitto quando mi ostino a tacere sembro persino un uomo ragionevole per di più posso meditare ma ora è meglio che parli ho preso la parola perché voi mi fissate con uno sguardo colmo di voltà avete un aspetto così allettante ieri avevo promesso ad Aglaia Ivanovna che sarei stato zitto per tutta la sera voglio spiegare tutto tutto sì tutto eh pensate che io sia un utopista un ideologo o no vi giuro che ho idee molto semplici non ci credete sorridete allora sapete sono vile perché perdo la fede questa sera venendo qui mi domandavo come inizierò a parlare con loro con quali parole comincerò affinché capiscano almeno qualche cosa come avevo paura ma specialmente per voi avevo paura una paura terribile eppure che cosa potevo temere non era vergognosa da parte mia una simile paura che importanza ha se per una persona è voluta c'è un tale subisso di persone arretrate e cattive la mia gioia sta in questo che ora sono convinto che quel subisso non esiste affatto e che vi sono soltanto elementi pieni di vita ma non dobbiamo turbarci nemmeno se siamo ridicoli vero è così siamo ridicoli fatui abbiamo cattive abitudini non sappiamo guardare non sappiamo capire siamo tutti così voi io e gli altri non vi offendete vero se vi dico in faccia che siete ridicoli ma pur essendo così non siete forse anche voi elementi pieni di vita sapete secondo me l'essere ridicoli è talvolta una cosa buona anzi è la cosa migliore e si può perdonare la vicenda più presto si può più presto rappacificarsi non sempre si può comprendere tutto di primo acchito non sempre si può cominciare dalla perfezione per raggiungere la perfezione bisogna prima non capire molte cose se si comprendono troppo in fretta non si comprendono bene lo dico a voi a voi che già tanto avete saputo comprendere e non comprendere ora non ho più paura per voi non andate mica in collera vero se un ragazzo come me vi dice cose simili voi ridete Ivan Pedrovic pensate che io avessi timore per loro che io sia il loro avvocato un democratico predicatore dell'uguaglianza ho timore per voi per tutti voi e per tutti noi insieme infatti io sono un principe di antico ceppo e sono qui con altri principi e parlo per salvare tutti noi parlo perché non debba scomparire inutilmente nelle tenebre la nostra classe senza prima aver capito nulla imprecando contro tutto e avendo tutto perduto perché scomparire e cedere il posto ad altri mentre si può essere alla testa del progresso e diventare i capi della società se saremo alla testa del progresso saremo anche i capi ci faremo servi della società per essere i capi so che non vale parlare quanto dare gli esempi e che è meglio addirittura cominciare io ho già cominciato e e si può realmente essere infelici che cosa sono mai le afflizioni e il mio male se posso essere felice vedete io non riesco a capire che si possa passare accanto a un albero senza essere felice di vederlo o parlare con un uomo senza essere felice di amarlo purtroppo non mi so esprimere ma quante cose belle si incontrano ad ogni passo cose che anche l'uomo più dissennato può trovare affascinanti guardate il bambino guardate l'aurora guardate erba che cresce guardate gli occhi che vi contemplano e che vi amano per aver guardato l'uomo più l'uomo più vissi quadruppo